Una festa in sala giunta per i campioni di scherma che hanno portato l'Italia in vetta alle competizioni mondiali ed europee. Oggi il sindaco Luigi De Magistris ha premiato la giovane Rebecca Gargano, medaglia d'argento agli europei 2015 di sciabola femminile, Diego Occhiuzzi e Luca Curatoli, che hanno conquistato l'oro nella prova a squadre dei mondiali di Mosca, a vent'anni dall'ultimo titolo iridato per la nazionale, ed i napoletani Massimiliano Murolo e Giovanni Repetti, altra medaglia d'oro nella sciabola maschile a squadre ai giochi europei di Baku in Azerbaijan. Oggi festeggiamo veramente un gruppo che funziona, sono varie società che si allenano insieme e che nonostante tutte le difficoltà del caso riescono a dare i risultati. Erano vent'anni che non vincevamo questa medaglia, è una medaglia che per me era uno dei miei obiettivi, era uno dei miei obiettivi della mia carriera, sono riuscito a raggiungerlo, siamo due napoletani, come nel 95 riportiamo metà medaglia d'oro a casa. Sono veramente campioni nello sport e nella vita che ci hanno regalato soddisfazioni enormi a Baku in Azerbaijan e poi da ultimo a Mosca, l'eccellenza della scherma della nostra città, una tradizione che va avanti da tempo, giovani, giovanissimi, e poi li apprezzo particolarmente anche perché sono donne e uomini che fanno cose importanti nella nostra città, non solo nello sport ma anche nella vita sociale. Sono veramente un esempio e noi ne siamo felici e oggi abbiamo dato un riconoscimento come città di Napoli per gli straordinari successi ottenuti.